Se Paniz vincerà i suoi ricorsi, la politica perderà un altro pezzetto di credibilità, di dignità e di faccia. Al me è così. Cioè, io l'ho detto tante volte a Paniz, io penso che siamo a un punto in cui c'è un problema di pacificazione sociale. Cioè, chi ha a cuore la politica è il primato della politica, è l'importanza della politica. Deve capire che la politica deve fare un passo indietro su alcune cose. Lo dico anche ad Alezzi, anche il tema delle indennità. In Parlamento non lavorano come i Matti, io lo so, sono lì lunedì mattina, non trovo un'anima. Venerdì mattina non trovo un'anima. Quattro giorni alla settimana, ragazzi. Ma scherziamo? Cioè, 16.000 euro, c'è qualcosa di asimmetrico tra le condizioni dell'Italia e le condizioni della politica. Paniz!